Dunque, Michele mi chiede invece per quello che riguarda il dolore all'anca nel post-operatorio. Ebbene, anche da questo punto di vista l'anca è un intervento estremamente vantaggioso, nel senso che dà dei risultati straordinari anche e soprattutto per quello che riguarda il dolore post-operatorio. Quindi è un post-operatorio con un outcome che sono particolarmente percepiti come positivi dai pazienti in media. E tant'è che il paziente riesce a mettersi in piedi già 4-6 ore dopo l'intervento senza sentire grande dolorabilità e comunque con una dolorabilità controllata. E superata la prima notte, come linea di massima, il dolore inguinale, articolare da anca, che è quello caratteristico dell'artrosi dell'anca, sparisce e quindi mediamente il paziente percepisce solo un po' di tensione o di dolore comunque controllabile a livello della ferita chirurgica. Stiamo parlando della via posterolaterale che è la via chirurgica che pratico ordinariamente. Questo fa sì che quindi nel giro di una quindicina di giorni non sia neanche più necessario continuare con gli antinfiammatori o gli analgesici perché, come linea di massima, la sintomatologia tende progressivamente a scomparire. Grazie. Grazie.